Cari amici telespettatori di San Marino Web TV, un buongiorno da Axel Paderni. Quest'oggi ci troviamo presso il lago di Faetano, nella nostra Repubblica, e tra poco incontreremo gli esponenti della Federazione San Marinese di Pesca. Quindi andiamo a parlare con loro e andiamo a scoprire quali sono le novità della nuova stagione. Bene amici, abbiamo il piacere di avere qua Muraccini Graziano, il presidente della Federazione San Marinese di Pesca. Attività della federazione che sta crescendo in maniera, direi, quasi esponenziale. Ma sta crescendo, è sempre stato, diciamo così, a questi livelli, perché noi, almeno da quando ho preso la presidenza io, che ormai sono 20 anni, e diciamo così, l'attività è sempre stata tanta. Partecipiamo a cinque campionati del mondo e quindi tutti gli anni ci prepariamo per fare questo tipo di attività. Prima ci sono le qualificazioni a livello nazionale, per poi di formare le varie nazionali che andranno a disputare i cinque campionati del mondo. Chiaramente quello che andiamo a disputare adesso, ai primi di settembre, a Peschiera del Garda, è il nostro campionato di punta, diciamo così, il campionato del mondo di Pesca al Colpo Senores. E quindi ci stiamo preparando molto bene per questo evento. Federazione San Marinese, che comunque è molto importante da un punto di vista, come abbiamo detto, mondiale, e sinceramente i successi a livello internazionale lo dimostrano. Sì, hai detto bene. Tra l'altro stiamo in un momento magico per la Repubblica di San Marino, in quanto, come tu ben sai, stiamo portando a casa un sacco di medaglie, un sacco di podi mondiali, alle Olimpiadi ci sono andati fortissimi i nostri atleti. E anche nella Pesca, diciamo così, non siamo da meno, perché noi le abbiamo sempre portate a casa, le medaglie, i podi. Siamo detentori di quattro titoli ridati e tantissimi vici campioni del mondo, terzi posti. Abbiamo fatto, mi sembra, se non vado errato, 24-25 podi mondiali. Quindi per una federazione povera come la nostra non è sicuramente poco. E in più, come ha detto Marino, andiamo a difendere un campionato del mondo che è in cuore sulle nostre maglie, quindi quello dei veterani. Due campionati del mondo, perché abbiamo vinto sia quello a squadra che quello individuale. E andremo in Slovenia ad ottobre a giocarci ancora le nostre carte. Continuando il nostro approfondimento, abbiamo il piacere di avere qua il vicepresidente della Federazione San Marinese di Pesca, Gasperoni Marino. Un'attività della federazione, un po' a 360 gradi. Nel scorso approfondimento abbiamo conosciuto i giovanissimi che praticano questa attività, però diciamo che la federazione è un po' per tutte le età, anche per i senior. Sì, noi parteciperemo i primi di ottobre al campionato del mondo di Over. Siamo tuttora detentori del titolo e andremo a difendere sto titolo sperando che vada tutto per il meglio e fare magari un bis. Un'attività della federazione che prosegue da oltre 30 anni. Diciamo che comunque il vostro è un ambiente molto familiare e comunque, insomma, quando uno diventa socio da bambino poi non vi lascia più. Sì, adesso ultimamente non è proprio così che ci abbandonano un po' i giovani. È uno sport un pochino, diciamo, molto... Sì, non attira molto i giovani. Speriamo di mantenerne qualcuno. Concludiamo il nostro approfondimento con Renzo Franzoni, il capitano della Nazionale Samarinese di Pesca Senior. Manca poco al campionato del mondo a Peschiera. Come si svolge l'organizzazione di questa rassegna? Noi siamo già stati un paio di volte a provare a Peschiera. Nel mese di luglio e anche una uscita in agosto abbiamo fatto. Il campo di gara è molto difficile, è veramente un campo di gara ostico. Per quanto è bello è tanto difficile. Per fortuna abbiamo una squadra di ragazzi giovani che sono tutti molto bravi, molto disponibili, che si stanno impegnando con tutte le attrezzature. In più abbiamo avuto la fortuna, tramite i buoni rapporti che abbiamo con la Federazione Italiana, di avere un tecnico veramente validissimo. Per chi non è nel mondo della pesca, ma che lo conoscono tutti, si chiama Stefano Defendi, è stato più volte nazionale italiano, ha vinto più titoli mondiali sia per club che per la Nazione. Quindi andiamo con buone speranze e con questo buon accompagnamento tecnico che avremo. Bene amici telespettatori di San Marino Web TV, vi ringraziamo di essere stati con noi. Ancora una volta un in bocca al lupo alla Federazione Samarinese Pesca per le proprie attività e ci vediamo nel proseguo dei programmi di San Marino Web TV. Da Axel Paderni, dal Lago di Faetano, è tutto, linea alla regia.